E ragazzi, a volte ritornano, a volte ritornano, siamo tornati dopo più di qualche mese su Clash of Clans Non potevo non tornare dato che hanno fatto una marea di potenziamenti, soprattutto alle truppe Hanno praticamente fatto il potenziamento degli Ieti, dei Bocciatori, del Golem, dei Minatori, dei Domatori, l'Arco X, il Mortaio, chi più ne ha più ne metta Hanno messo anche i Super Bocciatori A proposito, a 2000 like andremo a fare il video sui Super Bocciatori Oggi ci andremo a concentrare sui Minatori e i Domatori che erano già devastanti con questa strategia prima che li potenziassero Adesso sono veramente curioso di vedere quello che succede Purtroppo sono sceso dalla Lega Leggenda perché negli ultimi giorni ho potuto giocare davvero poco ragazzi Però nonostante non abbia portato video su Clash of Clans ci ho continuato a giocare Infatti come vedete ho fatto un sacco di muri a livello 15, ne ho fatti veramente un sacco Ho terminato tutti gli altri potenziamenti, insomma siamo andati parecchio avanti Ora l'unica cosa che mi mancava era lo Yeti ma l'abbiamo già messo a potenziare Magari poi per farci il video lo andremo a gemmare nei prossimi giorni Gli Archi X e i Mortai me ne mancano ancora un po' Mi manca un Arco X e i 4 Mortai ma pure quelli piano piano li facciamo, non ci sono problemi Oggi appunto mi dicevo andremo a provare di nuovo questa strategia con il potenziamento che hanno fatto i Minatori e i Domatori Sono veramente curioso, non l'ho ancora mai provato, è la prima volta Addirittura ho potenziato tutto senza gemmare, senza toccare le offerte ragazzi Ve lo giuro non ho toccato neanche un'offerta perché ho fatto tutto tramite i libri Ovviamente avevo ancora anche qualche martello dei, diciamo, martelli della costruzione, della guerra eccetera eccetera Quindi avevo un po' di sta roba e l'abbiamo potenziati al volo Vi ricordo che su Clash of Clans c'è il codice creatore, nel dubbio, dato che è uscito anche il nuovo pass ragazzi È uscito il nuovo pass di Clans, ovviamente lo abbiamo shoppato Per mettere il codice ragazzi dovete andare nelle impostazioni Altre impostazioni lo trovate in fondo, una cosa scomodissima ragazzi, però purtroppo l'hanno messo lì Quando vi scade ragazzi scomparirà la spuntina in alto a destra nello shop Vabbè, detto questo ragazzi, anche qui ovviamente codice creatore GGYT Detto questo ragazzi io direi di andarci a cercare un bel avversario ma non prima di esserci fatti il carretto delle risorse Vediamo un attimino se troviamo Vabbè, dai regà, io direi di attaccare un villaggio serio Direi di attaccare un villaggio serio magari come questo qui ragazzi Certo, non è, oddio, però non è proprio il massimo per sta strategia eh Perché c'ha tutto abbastanza interno Ma dai, allora, lo vogliamo provare su appunto un villaggio che è un po' ostico per la nostra strategia E allora andiamo a fare così Let's go ragazzi, allora No regà, non mi sono portato le mongolfiere, sono un pollo Eh, mentre rifacevo l'esercito mi sono dimenticato delle mongole Va bene, va bene, va bene Ce ne faremo una ragione ragazzi Ce ne faremo una ragione Infatti avevo troppe truppe Mi mancava qualcosa Però vabbè regà, dai, ce la dovremmo far comunque Però le mongolfiere con queste strategie sono fondamentali Bene, io ho attaccato da sta parte per fargli fuori il castello del clan Ma non ha nulla nel castello del clan Quindi anche la veleno ce la diamo dritta sui denti Andiamo a giocare un altro super spaccamuro di qua E vabbè, però regà, se non c'è neanche le truppe nel castello Penso possa essere un po' più facile farle tre Non so se riusciamo a farle tre stelle, eh Però nel dubbio io regà ci provo Allora, andiamo Ho aspettato un po' per giocare queste altre truppe ovviamente Per cercare di far attivare più tardi possibile l'artiglieria aquila Andiamo di potere del... Del re barbaro Andiamo di potere anche del gran sorvegliante Mi sa che tra poco dobbiamo usare anche le nostre care cure Mi sa proprio di sì ragazzi Ne usiamo una qui adesso Andiamo così e così in realtà Mi sa che un'altra cura la piazziamo pure qua I guaritori sono andati sulla combattente Ma va bene anche così in realtà, eh Non è che mi faccia schifo come cosa Una bella furia pure qui che vedo un po' di domatori in difficoltà Ce la facciamo? Beh, butto una veleno lì Butto una veleno completamente a caso lì Non so se ce la facciamo ragazzi, sapete? Mi sa che le tre non le riusciamo a fare purtroppo Mi sa che le tre purtroppo le riusciamo a fare Perché sono andati quasi tutti giù Eh ma ve l'avevo detto che non era un villaggio proprio buono Per sta strategia Però nonostante tutto Comunque un attacco abbastanza devastante è uscito fuori No? Comunque sapete Mi sa che le tre le riusciamo a fare Mi sa che le riusciamo a fare le tre Attenzione ragazzi, eh Attenzione perché abbiamo la regina Ancora al massimo della vita E abbiamo ancora l'unicorno che la cura E abbiamo ancora il potere Certo il doppio cannone è un po' ostico Potrebbe essere un po' ostico Però se lo fa fuori lei adesso così Forse il tempo ragazzi può bloccare Però ci aiuta anche il cucciolo di drago Capirai? Oh mio dio regà le bombe che sto uscite su quel povero cucciolo di drago Oh mio dio ragazzi Poverino Poverino regà il cucciolo di drago Vai andiamo adesso di potere ragazzi Penso sia andata No vabbè dai ragazzi ce l'abbiamo fatta È vero non aveva il castello del clan Però questa cosa viene compensata dal fatto Che per esempio in una war Questo villaggio non l'avrei mai attaccato con questa strategia Perché di fatto era un villaggio che non aveva senso attaccarlo così Però ci sta ragazzi Ci sta, ci sta, ci sta Ci andiamo a prendere anche il bonus per 4 del bottino Let's go Ci andiamo anche a fare un po' del pass Va bene Direi di riaddestrare un po' qui le nostre truppe Ma questa volta piazzando le mongolfiere Regà tanta roba Domatori e minatori ragazzi Rimane comunque una strategia veramente devastante Una delle migliori comunque allo stato attuale Ora che me l'hanno anche potenziata ragazzi Credo che l'andrò ad utilizzare ancora di più Non mi ricordo bene negli ultimi bilanciamenti Come era andata a finire Con domatori e minatori Non vorrei che magari l'hanno depotenziata Negli ultimi bilanciamenti Regà me li sono un po' persi Vi dico la verità Però devo dire che questo attacco Ci ha fatto capire che comunque Rimane una strategia decisamente valida Adesso ragazzi aspettiamo Che l'esercito si ricomponga Aspettiamo che ci donino le truppe Nel castello del clan E ci facciamo un altro attacco Questa volta però vorrei provare a fare un attacco Su un villaggio che è predisposto Per essere attaccato con questa strategia Così per vedere i domatori e i minatori Arrivare fino alla fine dell'attacco Sperando di riuscire a fare le tre stelle ovviamente Ok ragazzi abbiamo tutto pronto Tranne il castello del clan Dove purtroppo ci mancano i nove domatori Ne faremo a meno Anche perché tanto abbiamo deciso Che andremo ad attaccare un villaggio Che possiamo tranquillamente considerare Un villaggio che soffre Di fatto questa strategia Quindi andremo a prendere Un deck che sulla carta Dovrebbe essere easy per noi Ovviamente vabbè I municipi più bassi Mi sembrano Un attimino una cattiveria No Oh regà Oh ma possibile Li sto beccando tutti Che per cui non posso fare Una bella queen walk Una bella walkata Con la queen Questo vabbè È un classico Lo trovo qualcosa di strano Qualcosa di esotico Qualcosa di un po' Diverso Dal solito Dai non sempre la stessa roba Madonna Questo che Che villaggio è tirato Quello tra l'altro Stava pure in leggenda Con quel villaggio Vediamo un po' E sapete che qui Allora qui potrei Andargli a prendere Quella robetta lì Pulire di là No però no Perché poi c'è la regina Troppo interna Eeeh Questo pure Ho tutto interno Sto trovando tutti i villaggi Classici anti due Volevo trovare un anti tre E provare a fargliene tre Niente Anti due Tutti Incredibile Anti due Con la roba al centro Oh allora È comunque un anti due Però c'ha l'artiglieria Abbastanza fuori Quindi ci possiamo permettere Di fare una bella volcata E che fai Non te la fai una bella volcata Di queen Eh sì che te la fai Allora Facciamo una cosa bella pulita Però eh Facciamo una cosa bella pulita Allora Lì dovrebbero finire Di pulire i cuccioli di drago Quindi dovrebbe entrare La queen Per adesso Quindi sto tranquillo E vado di questa robettina Qui Vado anche Di Spaccamuro di là Aspetto che viene Fatta fuori L'artiglieria Aquila ragazzi E si parte Anzi no Aspetto che venga pulito Un po' di più qua Regà C'è un po' troppa roba C'ho il rischio Che mi giri un po' tutto Devono sbrigarsi A pulire sta roba qua Dai 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 signorini Va bene Così mi posso accontentare No regà Quella Mamma mia Quella bomba gigante Subito piazzata lì Così non ci voleva Facciamo così e così 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 Ok E ci siamo Siamo a cavallo Andiamo di nuovo Di gelo qua Abbiamo finito le nostre gelo Vado di potere Del gran sorvegliante Che direi che lì Ci sta a giocarlo Dato che c'è il municipio Un po' di robetta interessante Andiamo col potere Del re barbaro E beh direi Attacco abbastanza pulito Ah ma ci aveva Ci aveva uno scaglia pietre In manutenzione In costruzione Regà rip E mi sa che pure questo Non ci aveva le truppe del castello Vabbè però quelle non ce l'ho Nemmeno io stavolta Mi sa che posso anche risparmiarmi una furia Magari la dono dopo Però regà Oh Minatori e domatori Do sono finiti In nessuno dei due attacchi Mi sono arrivati fino All'endgame In nessuno dei due attacchi Allora Ho sbagliato qualcosa io Però anche se dovessi aver sbagliato qualcosa io C'era uno scaglia pietre In lavorazione Non aveva le truppe del clan Insomma È un po' deludente Come risultato ragazzi È un po' di Cioè anche se siamo riusciti a fare Le tre stelle È comunque un po' deludente Come 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 risultato Ribadisco Non so se abbiano Depotenziato Negli ultimi bilanciamenti Minatori e domatori Più che altro per quanto riguarda la vita Mi viene da pensare Non lo so Fatemelo sapere sotto nei commenti Tino ci sono andati a fare un altro Bonus stella per quattro Ma due attacchi di fila Regà così Cioè guardate Eccoli qua I miei due attacchi di fila E ho fatto in due attacchi di fila Il bonus Va bene Onesto Tra l'altro è Bello pieno pure Mettiamo tra l'altro Ecco Mettiamo un mortaio A questo punto Che i mortaio non li abbiamo ancora iniziati Vedi 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 Dai iniziamo già a fare qualcosina Nel pass purtroppo Eh non abbiamo fatto neanche i 40 punti Per la donazione a una gemma Vabbè Però direi che un paio di murettini Ce li andiamo a fare ragazzi Un paio di murettini Ce li andiamo a fare Let's go Rimettiamo il tutto Ad addestrarsi Va bene così E niente regà Fatemi sapere Quelle due tre cosine Che vi ho chiesto durante il video Qui su Clash of Clans E del bilanciamento in particolar modo Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGYT Per supportarmi anche su Clash of Clans Lasciando un bel mi piace Iscrivetevi al canale Soprattutto se ancora Non l'aveste fatto Per me è tutto Ci ritroviamo domani Con un prossimo video qui Sul mio canale Ciao ragazzi